Scusate, non ne ho sesso niente, invece, dicevo, dicevo che Mussolini, scusate, per entrare un attimo a fine del discorso, cosa stavo dicendo? Ecco no, Mussolini conviveva con altre forme di cultura, Hitler no. Mussolini conviveva con la cultura cattolica o con la cultura italiana, Hitler no. Hitler era a favore di una nazistizzazione totale della cultura. In questo contesto, vado avanti a leggere, vanno collocati i riti barbarici come il erogo dei libri. I libri venivano abbruciati perché i libri portavano cultura, invece l'unica cultura accettata era quella nazista. Abbiamo visto invece che in Italia si riesce a diffondere un certo tipo di antifascismo, vi ricordate Benedetto Croce, lo ha nominato, lo nominava anche il vostro Libra, un intellettuale antifascista che ha potuto esprimere le sue opinioni perché era comunque molto stimato, a differenza invece di altri. Ed è stato un critico d'arte, un critico letterario, uno studioso, uno scrittore fondamentale nella storia di tutto il novecento italiano. Il rogo dei libri, l'immense adunate dei militanti, la distruzione delle opere d'arte giudicate perverse e contraria all'insegnamento del Führer, capite? Guida, condottiero in tedesco, l'abbiamo già detto questo. Capite che tutto era molto più violento e molto più marcato rispetto al fascismo. Con questo non sto sminuendo il fascismo, assolutamente. Una volta salito al potere, qui invece troviamo un elemento che non c'era inizialmente nel fascismo. Noi non abbiamo ancora visto la questione razziale nel fascismo perché effettivamente non c'è. Non c'è nella prima parte del fascismo. Non è negli interessi di Mussolini e in nessun fascista. Una volta salito al potere, Hitler cercò di dare piena attuazione alla sua politica razziale, tese a discriminare in primo luogo gli ebrei, ritenuti autori di quel complotto che stava conducendo al declino della civiltà europea. Maggior violenza, antisemitismo, idea di guerra. Queste sono le tre grandi novità, differenze che ha il nazismo di Hitler rispetto al fascismo. Poi ci sono tutte le altre che abbiamo visto e anche le tante somiglianze. L'intento dei primi anni di governo di Hitler fu quello di isolare gli ebrei tedeschi all'interno della società, cioè rendergli impossibile l'accesso innanzitutto alle cariche, al lavoro, eccetera, vietando loro, vedete, determinati lavori oppure impedendo che avessero relazioni con cittadini non ebrei, quindi chiudendo i soldi fra di loro, fondamentalmente. Lo scopo era di diminuire il giro d'affare e di conseguenza di impoverirli, cioè se loro possono avere contatti solo con gli ebrei, ovviamente io italiano non posso andare a comprare in un negozio di ebrei, quindi non ci guadagna, ci guadagna molto meno, anche perché gli italiani, scusate, io tedesco, ovviamente, i tedeschi sono molto più degli ebrei, ovviamente. Un ulteriore inasprimento dei provvedimenti fondamentale, annotatelo assolutamente, furono le leggi di Nuremberg del 1935, siamo un po' più avanti, chiamate anche leggi per la protezione del sangue e dell'onore tedesco, che negavano la cittadinanza ai tedeschi di origine ebreica discriminandoli totalmente. Nuremberg fu una città chiave, una città tedesca chiave nella storia della Seconda Guerra Mondiale e di tutto, diciamo, questo periodo storico di cui stiamo parlando. È una città in cui in tutto furono firmate queste leggi del 1935 e poi si svolgse, dopo la Seconda Guerra Mondiale, lo vedremo, un famoso processo in cui si giudicarono i criminali di guerra della Seconda Guerra Mondiale e i criminali nazisti, per cui una città chiave. Vedete, leggi per la protezione del sangue e dell'onore tedesco. In seguito, i negozi ebraici furono oggetto di una campagna di boicottaggio. Gli squadristi contribuivano attivamente a questa politica, minacciando gli esponenti della comunità ebraica, sia colpendo i cittadini che continuavano a stabilire la relazione di lavoro e di amicizia con i ebrei tedeschi. Non era nient'altro che un tentativo di isolamento fatto per isolare sempre di più gli ebrei. Chi di voi ha visto La vita è bella con Benigni, in questo film tutto questo è molto molto evidente. Andiamo alla pagina dopo. Il momento più brutto di questa prima fase del nazismo e dell'antisemitismo fu sicuramente la notte dei cristalli. Sono due le notti nere del nazismo, la notte dei lunghi coltelli e la notte dei cristalli. Tra 9 e 10 novembre del 1938, la cosiddetta notte dei cristalli, si realizzò un autentico pogrom, adesso vediamo cos'è, in tutta la Germania, con la devastazione di migliaia di esercizi commerciali e di sinagoghe con numerose uccisioni. Cioè gli ebrei, gli squadristi, scusate, i nazisti, gli squadristi andavano, distruggevano le distruggevano le vetrine degli ebrei e le sinagoghe, che sono i loro luoghi di preghiera, ammazzando un sacco di gente. Pogrom, vedete, termine che indica qualsiasi azioni di violenza collettiva nei confronti delle comunità ebraiche, è una parola tecnica, diciamo, che vuol dire devastazione, lo dice il vostro libro, parole di origine russa, divenute di uso comune in molte lingue, perché le persecuzioni degli ebrei sono avvenute non solo in ovviamente in Germania, ma anche in Russia, è diventata un po' una parola simbola, anche se noi in Italia non la usiamo in realtà tanto. Non è una parola che in Italia si è diffusa tantissimo. Tutti i danni, riprendo a leggere, nella parte centrale, provocati dagli squadristi furono poi fatti pagare alla comunità ebraica, che ovviamente dicevano che era colpa degli ebrei. Da quel momento furono tantissimi gli ebrei tedeschi che decisero di emigrare, costretti però a lasciare buona parte di loro avere in Germania. Ovviamente questo Hitler faceva molto comodo. Vi inviterei, se volete, a dare un'occhiata per l'interrogazione, potrebbe essere interessante, a pagina 174, anzi, fatelo, guardatelo, le leggi contro gli ebrei, tra 35 e 38. Sono proibiti i matrimoni febrei cittadini di sangue tedesco, i matrimoni celebrati sono nulli, guardate, nessun ebreo potrà più dirigere un'azienda tedesca, ci sono cose che ci fanno veramente venire la pelle d'oca, per cui vi invito a guardare, sono proprio tre notine, e a studiarle. Bene, con questa lezione chiudiamo il discorso sulla prima parte del nazismo, e poi vedremo insieme invece il terzo stato totalitario, che è quello di Stalin, e vedremo come si caratterizza il regime staliniano. Bene, vi auguro una buona giornata e un buon lavoro. e un buon lavoro.